Cari amici, Rosa Nero, appuntamento settimanale con gli amichevoli del Palermo e con un po' di calciomercato ancora oggi insieme a discutere, a raccontare per chi non l'ha vista, per chi l'ha vista, questa amichevole con l'Oxford che purtroppo inizia male nel senso che il link alla diretta su YouTube non funzionava e non ha funzionato per qualche problema tecnico, purtroppo la partita è stata visibile solo su Facebook e non ha un'altissima risoluzione, quindi un po' scomoda da vedere qualcuno ha rinunciato, qualcuno ha resistito, io sono tra quelli che ha resistito e diciamo che ho visto una partita che alla fine ha qualcosa da raccontare considerato che è l'ultima amichevole del Palermo in questo precampionato chiudiamo con 4 vittorie e una sconfitta questo tour di 5 partite amichevoli e questa vittoria 2-0 all'Oxford ci dice alcune cose, ci dice altre, ci dice alcune cose questo sicuramente è vero, non possiamo negarlo, mancavano Luciani, il solito Segre è ancora infortunato mancano ancora gli ultimi che dovranno chiudere la campagna acquisti del Palermo quindi abbiamo sicuramente una formazione come al solito, non dopo il titolare ma i titolari vengono divisi su due squadre in maniera tale da far giocare tutti e mischiare un po' le carte mi colpisce in questa formazione a rititolare perché per esempio mi aspettavo Brunori invece c'è stato da rititolare che purtroppo è stato poco servito, è stato poco protagonista poco protagonista poco protagonista di questo primo tempo, cioè il primo tempo considerato che l'Oxford, io essendo una neopromossa, neopromossa in championship inglese quindi la nostra serie B, non è una neopromossa tipo alla Catanzaro, alla Suttirol ma è più una neopromossa alla stile Feral Pisalò dell'ultimo anno, del campionato appena concluso ecco, si vedevano grossi limiti, la partita l'ha fatta il Palermo, ha gestito molto il pallone il Palermo, le occasioni sono quasi tutte del Palermo, ne ha avuta mezza proprio alla fine del primo tempo l'Oxford, non mi ha impressionato in nulla, volevo dire, questa squadra, se non una squadra che ha fatto quello che poteva, diciamo, mettiamola così il Palermo, quindi, per parte con Di Francesco, Henri è in signa e poi va bene Vasi, Ceranocchia, Blen davanti alla difesa che è composta da Nedel Cearo Nedel Cearo, Nicolau, Lund e Diakite ragazzi, Lund, ecco, un'altra cosa che non, diciamo ecco, qualcuno ha detto che è migliorato, che sta migliorando in difesa ma io, francamente, questi miglioramenti oggi non li ho visti devo essere sincero, deve ancora fare grossi passi avanti e oggi, una delle prime cose che ci ha detto a partire di oggi che serve il terzino sinistro titolare serve un dichiara, serve un giocatore esperto di categoria lì a fare il titolare, perché serve assolutamente ragazzi, non ci sono dubbi, non so quanto serve a un altro giovane serve un giocatore titolare quello è poco ma sicuro, alla dichiara per quanto riguarda invece il centrocampo quello che non mi ha convinto è stato Basic perché è vero che Blen non è un regista quindi non ha potuto fare molto nel ruolo che è stato ritagliato nel primo tempo ma Basic non riusciva a tenere palla non riusciva a gestire palla è quello che ha maggiori qualità teoricamente insieme a Ranocchia è uno di quelli che ha maggiore qualità nei piedi ma la palla veniva spesso giocata un po' troppo velocemente e da lui si aspettava qualche giocata in più invece sì, è vero, il Palermo aveva di buono che aveva un'intensità impressionante mostra il suo essere squadra sempre in ogni momento però si puntava molto sugli esterni quindi sì, è vero, gioco veloce a due tocchi sugli esterni, ma sempre sugli esterni nel primo tempo e devo dire che questa cosa un pochino mi faceva storcere il naso c'è stata una bellissima iniziativa di Akite che poi crossa al centro per Ranocchia che tira un bolli da volo e che manca tanto il palo è stata veramente forse l'azione più bella del primo tempo ma anche lì arriva dall'esterno io quello che invece mi auguravo nel secondo tempo era vedere qualcosa di più nel gioco centrale per quanto riguarda Vatici però ci lascia alla fine del primo tempo per un infortunio quindi entra Gomes che poi continuerà la partita non so se è in merito di Gomes non so se poi è merito dei giocatori che sono arrivati che sono entrati al 59esimo ma dopo il 59esimo, al 60esimo la partita cambia fra l'altro un'altra cosa degna di nota del primo tempo Insigne ha dato una palla di Francesco che ha tagliato dentro ragazzi che forse Modrici da quelle palle lì ragazzi un taglio bellissimo poi Vatici non è riuscito a segnare Francesco non è riuscito a segnare però denota un grande tasto tecnico da parte di Insigne nel secondo tempo non si ferma qua perché nel secondo tempo c'è stata ecco dopo i cambi dicevo dopo i cambi ragazzi abbiamo visto un Palermo diverso un Palermo che forse è calato anche un po' l'Oxford ma comunque entrano Saric è entrato di tutto sono entrati appunto Pierozzi che esordiva è entrato Brunori insomma quasi tutti poi sono entrati quelli che erano in panchina ma quello che mi ha colpito è stato sempre Insigne che comunque ha avuto una continuità di prestazione in questa partita a me non è dispiaciuto però diciamo non è dispiaciuto ma è stato un po' offuscata tra virgolette dalla incredibile prestazione di Blend ragazzi io mi sono innamorato di Blend io capisco perché a Lecce lo amassero così tanto perché è un mastino dove lui non passa nessuno quando c'è da pressare è il primo a pressare anche davanti la porta e poi sarà anche determinante nel 2-0 passiamo al 61esimo quando Insigne serve un'altra palla meravigliosa dentro per Saric che tira un bolide in porta ragazzi Saric ha tirato un bolide veramente un tiro fortissimo e segna dal suo primo gol anche in amichevole anche non ufficiale col Palermo è di buono speech io ve lo auguro Insigne protagonista ancora una volta con il suo passaggio decisivo ma non gli è bastato dopo 3 minuti ragazzi ancora una volta Blend pressa il portiere quindi presse il pressing alto rimane lì la palla torna indietro ritorna lì davanti arriva verso Blend che di prima quindi di prima serve Brunori che di prima serve Insigne si inserisce Insigne tiro di sinistro e gol 2-0 Insigne anche lui segna assist gol ragazzi oggi è la giornata di Insigne cioè se chiedevamo se chiedevamo un un segnale Insigne c'è stato certo non è il segnale che ci aspettiamo da un esterno perché comunque l'abbiamo visto di nuovo molto spesso indietro c'è sulla linea di centrocampo a di tua sul cerchio di centrocampo a di tua raffermato un contropiede a un certo punto l'ho visto in difesa sì beh tutto questo è molto bello però vorrei capire qual è il ruolo degli esterni perché gli esterni dovrebbero essere di petto degli attaccanti torniamo al discorso di vecchio perché anche nel primo tempo cioè si attaccava più con i terzini che con di Francesco Insigne comunque però nel secondo tempo non si è visto più un fraseggio centrale nella palla sicuramente si provava ad entrare anche centralmente Ranocchi ha provato anche lì un paio di conclusioni però diciamo che per me poi sono entrati addirittura vabbè Peda, Damiani c'è ancora gente che comunque deve lasciare il Palermo cioè Peda non lo so si vociferava che potesse andare in Polonia in prezito ma non è non c'è nulla di ufficiale all'Italia non è arrivato niente è una notizia che arrivano alla Polonia ma non so che spazio perché ricordiamo Peda in questo momento è il quinto centrale se non è detto nel sesto è così come Buttero che è il quinto terzino e adesso ci colleghiamo intanto diciamo che la partita si è chiusa Brunori ha provato a fare un gol da centrocampo un po' come a Parma Gomez ha provato un tiro da fuori insomma Vardia si è chiusa 2-0 senza grandi altri colpi emozionanti va bene così passando un attimino al mercato quello che al momento circola circola a parte tutte le voci sul terzino e sinistro tra giovani e anziani un po' come di Chiara insomma c'è da capire un attimino il ruolo di Apois che sembrano ormai un accordo chiuso col Palermo e queste due novità di Sekulov e Asa che arrivano dalla cantera della Juventus ormai da tanti anni alla Juventus under 23 Sekulov alla destra giocatore che è sempre stato su una media di 3-4 gol in Serie C a stagione l'anno scorso invece ne ha fatti 9 e si è espresso molto bene da in te che hai ricercato un po' in Serie B da molte squadre Asa è invece una mezzala barra sì centrocampista centrale insomma anche trequartista a volte e sa fare un po' tutto di centrocampo ed è un giocatore tecnico ma giovane vent'anni e me lo ricordo io principalmente perché mi aveva colpito moltissimo durante il mondiale under 20 quello giocato anche con The Planche e mi aveva colpito perché era qualitativamente importante certo lì stava giocando con due suoi pari livello pari età però comunque è un giocatore che se il Palermo come dicono appunto chiuderà insieme a Sekulov si punterà appunto a chiudere il cerchio centrocampo con un giovane di qualità futuribile con i classici colpi alla City alla City Group ma qua parliamo di tre giovani a qua Sekulov Asa ecco mi sembrano tanti considerato appunto Peda appunto Vasic che appunto comunque ancora deve dimostrare tanto e poi abbiamo Sekulov alla destra qua alla sinistra e capire un attimino perché comunque poi ci sono di Mariani e di Francesco sono cinque quindi anche lì ci sarebbe un cinte un cinque cinque giocatori quindi un quinto un jolly ma chiuderemmo il mercato con due giovani con tre giovani e questo c'è poi un altro giovane anche in terzino sinistro mi sembrano un po' troppi giovani mi aspettavo un alla destra titolare e un terzino sinistro titolare ma di parlo di titolare ma di esperienza e quindi io ora io l'unica cosa che posso fare è concedermi all'esperienza proprio arrendermi all'esperienza del Palermo e dello staff che lo compone se questi tre giocatori saranno sono stati valutati all'altezza di fare di dare quello sprint sulle fasce che al Palermo serviva di dare quella qualità sul palleggio che al centrocampo al Palermo serve sempre io sono sarei contentissimo così e non possiamo che fidarci della competenza della proprietà che ci sta facendo crescere anno dopo anno anche con colpi come questi perché comunque si guarda in prospettiva non solo su questo campionato qua detto questo ragazzi cosa succede adesso domenica prossima ci sarà la partita di Coppa Italia a Parma io spero di poter andare appena metteranno i biglietti in vendita capirò in quale settore andare perché vorrei godermela in tribuna questa partita se potessi se i prezzi saranno come quelli che mettono in amichevole che Parma ad Alanta costava 10 euro ci spero in qualche maniera anche perché sarà in tv ricordiamo che sarà in diretta alle 18 su Italia 1 la partita quindi già è la settimana di Ferragosto poi la partita è in tv magari si fanno un prezzo basso e mi guardo il Palermo in tribuna e non sarebbe male detto questo ecco e poi e quindi la prima partita ufficiale De Santis su scale ha tratto detto che vuole consegliare una squadra completa prima dell'inizio del partito ufficialio o comunque prima all'inizio del campionato quindi staremo a vedere già la settima prossima potrebbe essere quella decisiva per chiudere questo calciopercato o perlomeno chiudere quasi tutti i colpi per i dttv io penso che anche per questo la settima prossima sarà decisiva penso che è quasi certo che si vedrà da qualche parte ma dobbiamo aspettare ancora perché è una trattativa proprio che si gioca sui minuti sui secondi su chi cederà per primo ecco mettiamolo così è proprio una trattativa a chi cede per primo e secondo me cederà per primo la serie B la lega B ne sono convintissimo anche perché ragazzi i dttv sono fondamentali per molte squadre in serie B molto più fondamentali ragazzi ditemi cosa ne pensate il video è lungo ma ho visto che ormai vi piace di guardare comunque fatemi sapere buon weekend e ci vediamo online ciao ragazzi ciao